Io sono Piero Corona, ho 68 anni compiuti, vengo da Sant'Antioco, ma originariamente sono di San Giovanni Suergio. Ho avuto sempre una sofferenza enorme per i miei denti, brutti, bruttissimi, ma sin da quando ero giovane. Per cui rimanda oggi, rimanda domani, ecco il risultato finale, ho distrutto tutti i miei denti, mi manca il sorriso, mi manca il masticare come Dio comanda. Certe volte mi manca di traverso quello che mangio, perché proprio non riesco a masticare, quindi devo stare attento, ecco, mangiare cose molto tenere, ecco. Per cui girando così, mi sono trovato Boero Clinic e ho detto devo andare a verificare, perché tutti i colleghi, amici, mi parlavano, vai in Croazia, vai in Voldavia, vai in Romania. E io sono saldo e queste cose le faccio in Sardegna. Martedì farò l'intervento per avere i denti fissi in 24 ore. Ciao a tutti, sono Piero Corona, vengo da Sant'Antioco. Un mese fa ho fatto il mio intervento, dopo aver girato, ho cercato di capire dove andare a mettere a posto i miei denti. Un giorno così, per caso, navigando in internet, trovo questo Boero Clinic, leggo qualcosa e mando un messaggio. Mi hanno prontamente risposto e sono venuto a Cagliari. Mi hanno fatto questo favoloso check-up, era da rifare tutto, per cui ho deciso di fare l'intervento, che risale un mese fa, è stato fatto l'intervento, 24 ore mi avevano già fissato i denti, dopo aver estratto i miei, che mi facevano penare, e oggi sono con i miei denti, i miei perché li ho pagati, chiaro? Però sì, sono miei. Sto bene, da Dio. Boero Clinic mi ha realizzato un sogno. Cioè, io, quello che ho adesso, era nei miei sogni. Non pensavo mai che avesse avuto questi denti, o questo viso, o questo sorriso. Poter usare, poter mangiare. Sentirsi qua, alla Boero Clinic, con tutto lo staff, non ho parole. Sembravano o fratelli o sorelle. Io mi ricordo, in particolare, il momento dell'estrazione, c'era una ragazza vicino e mi accarezzava, mi accarezzava. Insomma, io queste carezze non ho mai avuto da nessuna parte. È quello che mi fa venire le lacrime, quando mi ricordo. Perché ti accettano? Tu sei uno di noi adesso. Ti accettano. Se hai un dolore, si fermano. Stai attento, se ti facciamo male, devi dircelo. Tutto con la massima attenzione. Come che ci conosciamo da una vita. Io li ho visti solo l'altro giorno, la prima volta. E oggi sembro che sia di casa qui. Sono anch'io parte dello staff ormai. Perché sono fortissimi, sono gentilissimi. Ti fanno sentire a tuo agio. Sei non entrato in una casa, sei entrato in una casa piena di sogni.